Leonardo Romagnoli candidato sindaco per la lista Borgo in Comune a Borgo Sadorenzo amministrative 2019. Leonardo Romagnoli impiegato presso la radio libera radio libera Mugello che oltretutto diciamo radio storica dal 1977 che è in onda sulle frequenze appunto mi vedrebbe da fare lo slogan quasi quasi si candida sindaco dopo comunque aver acquisito una lunga esperienza come assessore quindi circa 20 anni se non sbaglio più o meno 19 anni quindi in maniera ininterrotta cioè quindi proprio di continuo quindi una lunga esperienza anche di amministratore e di conoscenza della macchina dell'amministrazione pubblica e adesso si candida appunto con la lista Borgo in Comune sorretta o comunque partecipata anche da partito della rifondazione comunista come perché questa scelta di questa candidatura e quali sono stati gli elementi che ti hanno portato appunto a metterti a disposizione? Allora la prima precisazione riguarda il fatto che la lista Borgo in Comune è una lista unitaria di sinistra in cui all'interno ci sono anche elementi di rifondazione comunista ma non sono affatto la maggioranza sono una parte dei 16 consiglieri della lista mentre è una lista aperta a ex elettori o iscritti al partito democratico ex votanti della sinistra e del centro sinistra che si riconoscono in un progetto che vuole riportare Borgo a un certo livello di amministrazione perché ho scelto di candidarmi e proprio per la delusione provata nel quinquennio dell'attuale amministrazione si è rappresentata come rinnovamento anche alimentando una serie di aspettative importanti che poi alla prova dei fatti non ci sono state. C'è stato un chiudersi all'interno delle stanze comunali, un cattivo rapporto con i dipendenti comunali, grandi progetti che poi si sono rivelati invece poca cosa al momento dell'attuazione e tante altre cose che mi hanno fatto propendere quindi per cercare invece di riportare una certa serenità all'interno dell'amministrazione comunale di riaprire un rapporto davvero di trasparenza e collaborazione con i cittadini e con le numerose associazioni sono presenti nel territorio comunale. Questo non c'è stato, c'è stata più preoccupazione di occupare posti e ruoli all'interno della macchina comunale ma anche diciamo a livello comprensoriale, basta pensare alla presidenza dell'Unione e altre... La direzione del Gall? La presidenza del Gall, non la direzione del Gall, ma tutta una serie di cose che hanno portato diciamo a pensare più a questi aspetti legati a posizioni di potere o presunto potere invece che magari sfruttare il grande consenso avuto per dare una svolta vera all'amministrazione di Borgo San Lorenzo. Ok, allora quindi tanto per iniziare poi naturalmente le domande in corso d'opera nascono diciamo così spontanee. Tu hai detto una lista unitaria di sinistra dove ci sono anche esponenti di rifondazione ma quindi non c'è nessun problema affinché ci siano maggioranza o minoranza, non è tanto questa, ma ci sono anche altri esponenti ad esempio mi viene a pensare a banchi, no? Oppure ad altri, senza voler citare tanti nomi, però ecco, e come si riesce a mettere insieme comunque visioni politiche che sostanzialmente sono state nel corso degli anni distanti l'una dall'altra? Allora, su alcune cose non è affatto distanti, altrimenti sarebbe stato impossibile pensare a una lista unitaria. Abbiamo messo alcuni punti sulla tappeta, abbiamo fatto un programma, su quel programma ci siamo trovati d'accordo e sulla base di quel programma abbiamo costituito la lista e chiesto l'adesione e la formazione della lista. Quindi tutto molto trasparente e chiaro. È il programma che vogliamo portare avanti, che ci rende coesi nel fare la campagna elettorale e poi i cittadini ce lo concederanno anche nell'amministrare il comune di Borgo San Lorenzo. Quindi comunque ora non ci sono i sondaggi a Borgo San Lorenzo se non di quegli empirici appunto a pelle, ma si dà quasi, non voglio dire per favorito, ma comunque un ballottaggio appunto fra l'attuale lista di Omoboni e questa Borgo in comune. Lo vedi uno scenario fattibile secondo le tue rilevazioni o ancora troppo presto ti vuoi, diciamo così, a livello scaramantico non trattarlo? No, diciamo non ci sono i sondaggi per cui si va secondo le sensazioni nel rapporto abuso con la popolazione, gli incontri che si fanno, le raccolte delle firme, nelle telefonate che uno riceve da persone magari che sicuramente non pensavano che sarebbero state vicine a un progetto di questo tipo. Noi puntiamo al ballottaggio, sicuramente questa volta non ci sarà nessun candidato che vince il primo turno. Il nostro obiettivo è quello di andare al ballottaggio, se sarà con l'attuale sindaco bene, se sarà con qualcun altro bene lo stesso, però noi puntiamo, ecco non siamo per partecipare e basta, non è una presenza di testimonianza, è per arrivare a cercare di dare una nuova amministrazione a Borgo e Salone. Bene, comunque delle certezze ci sono, però potrebbe essere, io ti riporto un po' una sensazione così raccolta, una sensazione raccolta che potrebbe essere quella che la lista Borgo non comune di fatto è semplicemente una lista contro, una lista contro perché comunque bene o male Romagnoli in qualche modo, insomma tu eri direttore del regalo e non lo sei più, quindi nell'occupazione dei posti, quella che tu avevi detto precedentemente, ricordo Banchi che insomma aveva un ruolo apicale nell'amministrazione e non c'è più, come anche ricordare per esempio l'annosa questione del cantiere, cosa significa nello specifico un percorso nuovo di sinistra secondo te? In questo caso significa riportare serenità all'interno della macchina comunale, significa fare le cose che sono richieste dai cittadini a partire dal decoro e dal verde urbano e fare degli investimenti in prospettiva che migliorino la qualità della vita e diano delle risposte in settori fondamentali ma che sono quelle dell'istruzione, della cultura, dello sport e dell'economia, questo è l'obiettivo principale e si fa attraverso una costruzione di una macchina amministrativa e deve essere coesa, partecipata e collaborativa all'amministrazione comunale che oggi non esiste, questa è secondo me la pecca principale del perché l'amministrazione di Borgo San Lorenzo non raggiunge gli obiettivi che invece sono richiesti dai cittadini, questo non lo dico io, poi c'è una mancanza di trasparenza, il chiudersi in gruppi abbastanza ristretti, quindi questo ritengo siano cose che devono essere cambiate e che faranno bene non solo all'amministrazione Borgo San Lorenzo ma anche alla politica perché secondo me uno degli aspetti anche negativi di questa amministrazione è l'aver coinvolto poco il consiglio comunale, le commissioni comunali, anche quella era l'opposizione che in realtà l'opposizione non l'ha fatta perché in gran parte hanno sempre votato quasi tutto quello che proponeva l'amministrazione comunale a parte l'altra Borgo di fondazione comunista e qualche consigliere tra l'altro di maggioranza che ha votato contro alcune decisioni, per il resto c'era abbastanza assenza ecco di una, mentre secondo l'esperienza che io credo che il consiglio comunale ha un ruolo centrale nella programmazione dell'amministrazione comunale discussione e confronto dove alcune commissioni devono avere anche tra l'altro la presidenza proprio dell'opposizione per un sistema di controllo dell'amministrazione perché è solo attraverso questo e poi si fanno le scelte più corrette nell'amministrare i cittadini sia in campo urbanistico ma anche in tanti altri settori che sono vitali per l'amministrazione di un paese. Continuiamo a seguire naturalmente il tuo discorso, per quanto riguarda, quindi ora stiamo ancora nel campo di confronto con l'attuale amministrazione, ci sono una serie di problematiche che sono comunque rimaste aperte anche se ultimamente tagli di nastri e inaugurazioni sono state abbastanza all'ordine del giorno, però ci sono anche dei problemi che provengono dalle amministrazioni precedenti dove questa mancanza di serenità sembrava non esserci. Parlo per esempio del secondo mandato Bettarini che ha chiuso appunto il suo mandato ma ha lasciato un problema aperto che è il multi più. L'attuale amministrazione se l'è ritrovato questo multi più e tu in un tuo editoriale insomma hai chiesto anche che cosa che cosa se ne dovesse fare insomma hai contestato ugualmente diciamo il lavoro svolto nei confronti di questo multi più. Lì in questo caso cosa di contesti? La mancanza di coraggio forse per prendere in mano la soluzione di questo problema oppure altro? Quello che il contesto sul multi più è l'abbandono ingiustificato della struttura. Quella struttura l'amministrazione precedente l'aveva assegnata alle associazioni che a loro volta lasciavano la possibilità a chi ne aveva bisogno per mostre o anche agli studenti per attività di studio di frequentarla quindi ne pagavano le utenze in accordo all'amministrazione comunale la cosa funzionava era una struttura pubblica che serviva a tantissime associazioni di vari settori. L'attuale amministrazione decise sulla base di questa presunta ipoteca ancora presente sull'immobile di allontanare tutti dicendo che non si poteva eccetera fare attività eccetera. Recentemente la stessa amministrazione comunale ha deciso di riutilizzare multi più per farci la scuola. Quindi allora qui vedi la differenza. Secondo il mio modesto parere io non sono un giurista l'amministrazione comunale non aveva nessuna necessità di lasciare la struttura. Poteva continuare a utilizzarla come voleva e quando voleva per le associazioni. Poi le questioni di carattere giuridico o legate al fallimento della operativa giovane della casa potevano essere risolti parallelamente al completo utilizzo della struttura. Ritengo invece aver fatto così era solo un motivo forse per screditare il che aveva amministrato prima non lo so questo non mi interessa se qualche errore è stato fatto da chi l'ha fatto poi ne pagherà le conseguenze ma al di là di questo io contesto non aver cessato di utilizzare la struttura. Quindi il metodo sostanzialmente il metodo utilizzato quindi forse o un calcolo politico di interesse. Non lo so io mi auguro di no penso forse un eccesso di prudenza e poi si è trasformato in un mancato utilizzo che dura ormai da quattro anni. Poi adesso invece è ripreso. Quando ci rientri dentro quando ci deve fare i lavori da rifare di cose mentre è una struttura che attualmente poteva essere dare risposte magari a tante necessità. Senti in un altro tuo editoriale perché naturalmente non possiamo fare a meno di non prendere spunto da quello che scrivi. Parli di altri due immobili in particolare di uno del monastero di Santa Caterina dove anche in questo caso non è che fa delle contestazioni vere e proprie ma poni delle domande. Cioè effettivamente è un bel progetto dove si sono mobilitate tante realtà si sono messe insieme e quindi poi il centro del paese verrebbe valorizzato e quant'altro ma viene presentato come un progetto di natura sociale ma dove alla fine le gambe per reggere stanno nell'ambito commerciale quindi tu li chiedi se è così che si scoprano le carte. No io non chiedo il progetto è abbastanza chiaro chi l'ha presentato è un progetto per ora che è sulla carta se è stata presentata anche l'occasione sulla carta che prevede un immobile di grandissimo valore storico bellissimo all'interno che aveva una funzione religiosa ma che ha avuto anche una funzione diciamo sanitaria e sociale perché per un certo periodo ci risiedevano degli anziani all'interno nei piccoli appartamenti e quindi aveva anche questa funzione sociale aveva già come destinazione anche una funzione turistica ce l'aveva di già come come finalità urbanisti all'unica variazione stata fatta da punto di vista urbanista riguarda proprio l'aspetto commerciale perché il progetto al piano terra prevede la creazione del ristorante e di botteghe artigiane comunque di vendite prodotti al primo piano una zona museale di caffè letterario e di coworking e poi al terzo piano 40 posti di riabilitazione per anzi si riesce a questo è progetto che costa oltre 6 milioni e mezzo di euro che ancora sulla carta non ci sono nessuno gli ammessi quando uno fa un investimento di questo tipo ovviamente poi si sorregge su come funziona la parte commerciale immagine il famoso business plan sì comunque immagino e chi ha fatto il progetto presuma che da questa attività di ristorazione o di botteghe alla base possano venire il recupero in tempi ragionevoli dell'investimento e dovrà essere fatto per cui dovranno essere partite mutui oppure non so se ci saranno altri e quindi in quel è stato valutato ci sono già dei soggetti al di là di tutti quelli hanno presente inaugurazione che saranno disponibili a prendere in affitto e a quanto queste strutture perché a borgo salenzo abbiamo fondi commerciali vuoti che non costano nemmeno mille euro e pensare a fondi che in quel caso mi presumo visto l'investimento viene fatto dovrebbero stare molto ma molto di più ecco quindi vedi infatti un passo un po no sarebbe da solo da specificare perché secondo me sarebbe stato magari più opportuno mantenerle una funzione sociale diciamo della struttura che anche una valenza economica perché oggi le rsa centri di riabilitazione insomma non sono cose che sono a smesso diciamo così hanno riconoscimento anche da parte della regione dei comuni e quindi poteva essere una diciamo prospettiva diversa per questa struttura staremo a vedere se nel progetto sono solo presentata non c'è solo una variante quindi quindi non c'è niente di più ecco quindi bisogna vedere poi nello specifico come si è poi quindi la presentazione un paio di mesi avanti delle elezioni ma no quello magari stava fatto per tanti motivi ma che c'era bisogno anche di coinvolgere il territorio non è come gli asfalti elettorali e mentre per l'altro importante monastero di luco invece lì si è praticamente abbassato insomma è andato nell'oblio del della disponibilità del maggio musicale e non si sa che che fine ne farà in questo caso la tua amministrazione qualora tu fossi votato appunto avrai un'attenzione particolare a queste cose oppure sono fuori dalla portata del sindaco no queste cose non sono fuori dalla portata del sindaco in passato ricordo che su questa struttura perché sembra poi la struttura non abbia mai avuto una una funzione il l'ex ospedale di luco quando c'è so di essere ospedale quindi parliamo di 1989 fu utilizzato per la scuola per infermieri è stato un centro per disabili ci sono state varie attività che sono svolte nel corso dell'anno e poi l'azienda sanitaria che era proprietaria dell'immobile ha deciso di spostare da altre parti e quindi è stato il momento del vuoto e lì si inserì una proposta fatta all'università di agricoltura di firenze di fare a al luco un centro d'eccellenza sulla zootecnia a livello nazionale ma anche internazionale visto le caratteristiche della nostra zona era una cosa si inseriva bene perché poi ci sarebbero stati creati degli alloggi per gli studenti nelle dependance della del monastero insomma tutto un progetto interessante molto costoso però lì ci sarebbero stati finanziamenti dell'università sarebbe stato probabilmente finanziamenti statali poi la legge nazionale è cambiata per cui l'università non potevano avere più sedi distaccate e il progetto punti con una pira di casa e a quel punto lì è stata fatta sono state fatte delle varianti urbanisti per favorirne l'utilizzo quindi inserendo anche la l'aspetto turistico l'aspetto commerciale non commerciale turistico soprattutto c'è un progetto c'è già un accordo anche con la sovrintendenza per come intervenire sulla struttura però il costo che all'inizio era nemmeno eccessivo e 2 milioni e mezzo oggi è meno della metà quindi un po più di un milione uno potrebbe acquisire tenete conto però una struttura di 4mila metri strutturarlo insomma ce ne vuole ed è qualche decina di milioni quali sono gli elementi di fondo quelli di elementi sostanziali per cui si è creato la lista gli hai spiegati ma nello specifico ecco per risolvere problemi chiamiamolo così di tutti i giorni dei cittadini quindi partire dai servizi al porta a porta e rivelmente scolastico poi il famoso discorso trasporto pubblico no che anche quello è stato un problema come del resto piano regolatore o viceversa anche il piano del traffico insomma ci sono elementi importanti da dover discutere e non solo ma soprattutto da trovare soluzioni gli argomenti sono tantissimi diciamo sul tappeto il piano del traffico diciamo arriverà forse a conclusione o nel primo anno della nuova legislatura perché diciamo ancora non è terminato e questo è uno degli aspetti critici perché non aver fatto il piano del traffico nei primi due anni o merà nell'ipotesi del nel poste del programma di questa amministrazione ha comportato si sono fatta delle scelte poi invece l'incidenza sul trappio ce l'hanno eccome senza sapere qual è il piano del traffico ne cito una lo spostamento del mercato a un incidenza sul sul diciamo sul traffico intorno e dentro e l'abitato di borgo san lorenzo che nessuno ha valutato insomma si valuta volta a volta e diciamo il mercato si svolge abbraccio lo stesso vale per lo spostamento di alcuni del percorso dei bus cosa si può anche discutere lo spostamento dal centro però prima bisogna sapere per esempio da dove vengono gli utenti e prendono i bus in un certo posto perché se gli utenti che vengono un certo posto poi glielo sposto un chilometro in più in là il posto per prendere i bus questi sono costretti a prendere la macchina e quindi si crea una situazione che non è diciamo favorevole da questo punto di vista senza contare ad esempio la scelta del terminal bus nella zona in cui era stato scelto lì davanti al santore santissimo recepisso io l'avevo già detto l'era una scelta non idonea che si poteva pensare davvero allora qui punto alle scuole sfruttando i viali come momenti di sosta ma comunque anche lì va fatto degli approfondimenti però intanto la situazione per ora avrà questa soluzione tampone poi sicuramente il terminal bus sarà presso le scuole superiori sì che poi in questo caso l'amministrazione l'attuale sindaco paolo boni cita a suo favore il fatto di che la sua amministrazione ascolta cittadini nel senso che è stata fatta una decisione ma poi con l'ascolto dei cittadini questa decisione diciamo è stata corretta se voleva ascoltare i cittadini la faceva prima questa scelta è prima di fare la scelta e fare la delibera con l'investimento perché diciamo i cittadini sono mobilitati dopo la delibera è vero alcuni non hanno partecipato all'assemblea pubblica eccetera eccetera però ci sono tanti modi per ascoltare i cittadini uno potrebbe dire noi vorremmo fare questa cosa qui i cittadini ti dicono no sì come oppure uno porta delle ipotesi e sceglie sulla base delle ipotesi questo ha fatto una delibera di impegno c'era un impegno finanziario poi viene utilizzato ora per pagare l'altro bene vuol dire però diciamo 850 film si tornare comunque diciamo sui passi e anche perché si sarebbe stato difficile fare il contrario allora altri candidati di altri comuni mi hanno detto in particolare lo cito perché mi sembra che sia stata una dichiarazione interessante Enrico Carpini sempre nelle nostre interviste ha detto la mia amministrazione sarà un po più con la schiena dritta ovvero andrò ai tavoli della regione dove si fanno determinate scelte non soltanto ad accettare supinamente più o meno come come attualmente gli attuali sindaci stanno facendo perché via dello stessa appartenenza partitica o quant'altro ma con buon senso accettare o meno comunque alzare il braccio per dire questa scelta non va bene così come l'avete pensata ad esempio appunto in questo caso anche per quanto riguarda il ridimensione del mesto scolastico cioè pensare pensare siete accorpamento pensare al fatto che giottolivi chinocchini fosse accorpato con palazzolo il marradi insomma discutibile no è discutibile noi siamo contrari a questa ipotesi ma per motivi che sono anche proprio di funzionamento delle scuole non è solo dice l'accorpamento una scuola superiore con delle scuole medio elementari no è che fare questo accorpamento comporta la perdita di personale comporta la perdita dal punto di vista didattico quindi comporta un peggioramento della situazione allora anche qui si tornò mai prima invece di accogliere così la proposta della regione toscana che può sembrare senza approfondirla più di tanto probabilmente un confronto con i genitori con gli insegnanti con i sindacati e certo sarebbe stato opportuno prima di prendere una scelta poi si torna indietro perché ovviamente sindacati genitori studenti si insegnanti si alzano però anche lì siccome la cosa era diciamo conosciuta da tempo non ha proposto da tempo un confronto con chi dentro la scuola ci vive e chi nella scuola ci lavora prima di dire sì o no sarebbe stato opportuno quindi questo ulteriore conferma insomma della diciamo della decisione di donardo romagnoli riguardo appunto a quello che citava in partenza che era la delusione cioè dallo slogan iniziale di questa amministrazione che secondo appunto quanto tu affermi che ha dato anche delle aspettative brucia ancora di più nel fatto che si sono ancora più chiusi a riccio insomma sostanzialmente si sono decisioni prese da un gruppo ristretto oppure tra amministratori senza confronto con i cittadini e credo che questo sia un errore grosso oggi per la politica dove i partiti sotto tanti profili contano meno di quanto non contassero tanti anni fa e quindi ci sono anche per gli amministratori se vuoi maggiore opportunità di scelta maggiore opportunità di confronto maggiore opportunità di coinvolgimento dei cittadini ma affatto io penso ad esempio si parla spesso delle frazioni noi pensiamo di costituire delle vere consulte nelle frazioni che siano piccoli o grandi che possano essere di riferimento perché poi si dice sempre verremo a fare un aggiunto da volte in mese poi dopo il passare del tempo per gli impegni ce sono tanti per le cose che non trova mai il giorno giusto per mettere insieme le gente se uno ha in una frazione più o meno grossa quelle 45 persone che sono rileviti in un'assemblea pubblica in cui tutti si riconoscono che al di là del consigliere può essere eletto all'interno del consiglio comunale ma sempre meno consiglieri quindi poi aver tutti rischi a non avere la rappresentanza avere una consulta che ha rapporti diretti una persona all'interno della giunta c'è una responsabilità per le sprazioni o anche direttamente nei sindaco e poi li organizza gli incontri le frazioni o porte i problemi della frazione l'attenzione della della giunta per una soluzione credo che questo sia una cosa non difficile e mi di nessun costo dei canali di comunicazione diretti che non debbano essere immediati né dai social né dai media no no perché quello il discorso da avere di pensare di risolvere tutto questo attraverso facebook o qualsiasi altro strumento secondo me non vale credo ci sia ancora bisogno e noi ce lo possiamo permettere viste le nostre dimensioni territoriali avere un rapporto diretto con le persone discutere con le persone e farsi dire dalle persone tese perché sennò il rischio attraverso i social è che poi sono sempre gli stessi che ruotano è una bolla in cui si chiude poi se sembra di rappresentare i cittadini poi tu vai a parlare fa un assemblietta e ti ritrova i cittadini e tu ti accorgi che le dirigenze erano tutt'altre rispetto allora i temi e naturalmente con l'occasione di avere una persona di tale livello insomma di conoscenza sarebbero sarebbero tanti da trattare mi piacerebbe appunto sapere da te anche un po una visione un po più allargata i servizi associati appunto del mugello per poi dopo passare anche ad altri argomenti però sono talmente tanti che ne scelgo soltanto alcuni e quindi torno sul fattore mugello come possiamo secondo te sviluppare e quindi innanzitutto i servizi associati se tu sei più per il famoso comune unico come si suol dire oppure se invece potenziare e in che modo appunto i servizi associati affinché possono veramente tornare utili il comune unico lo che è scritto quindi è una sciocchezza colossale c'è un comune che diventa più grosso una provincia c'è il mugello è più grosso della provincia di massa anche sia meno abitanti questo poi da un punto di vista di rappresentanza uno ci si scorda sempre non si parla di comune unico perché si può semplificare perché si può spendere meno fare un comune unico straotto comuni vuol dire intanto avere 16 consiglieri quindi vuol dire quanti consiglieri leggerà borgo quanti picchio quanti barberino quanti palazzolo marradi quindi conti due due per uno quindi ma neppure perché a quel punto li contano i voti contro le percentuali non esiste quindi si rischia di peggiorare quella è la rappresentanza democratica e proprio il coinvolgimento dei cittadini io ritengo fatte le giuste analisi sia meglio invece andare verso alcune gestioni associate dei servizi dove sono utili fare gestioni associate perché comportano siamo meno spese però devono comportare anche meno burocrazia perché quando si fanno a volte gli accordati poi ci sono dei meccanismi dei regolamenti che diventano impossibile per almeno il singolo cittadino la piccola impresa se si trova un po' di più il caso secondo me questo non si perché è una sovrastruttura di fatto e invece va fatto vanno fatte le gestioni associati per alcuni servizi ma per semplificare come era nelle intenzioni quando si fa uno sportello unie attività produttive è perché il cittadino l'impresa che deve fare l'attività balli fa una domanda e poi la risposta no che poi deve avere ma quell'altro non dà la risposta è su app quelli non dà la risposta è in su app deve avere i rapporti tutti gli altri e dei tempi ragionevoli per dare una risposta alle aziende ai cittadini allora ricordo proprio solo per allacciarmi a questa ultima domanda se dopo di che poi si passerebbe al consueto nostro piccolo spazio dell'appello al vuoto ma l'abbiamo definito così la creatività permettici è stato un po non molto spinta mi riallaccia al fatto che il primo diciamo tu ti sei presentato all'inizio quando hai iniziato l'attività carriera politica comunque con il partito dei verdi e liste verdi autonome liste non esisteva il partito vabbè erano liste verdi autonome comunque benissimo lista verde allora qualora vi arraccio appunto a questo fatto dell'ambientalismo di leonardo romagnoli perché qualora tu diventassi sindaco darai poi attuazione al famoso referendum sull'acqua dell'acqua pubblica ripubblicizzazione dell'acqua in parte l'hanno già deciso i sindaci attuali di tornare verso una pubblicizzazione con tempi che comporteranno anche dei costi perché poi liquidare i soci privati non è che non ha un costo credo che se il referendum ha dato delle indicazioni queste devono essere rispettate e quindi riportare alla gestione totalmente pubblica che vuol dire una società in cui partecipano i comuni oggi diciamo i comuni sono la maggioranza all'interno di pubblicacqua sono la maggioranza poi all'interno del lato e decide la politica degli investimenti ritengo di sì cioè ma che questo sia un obiettivo e noi abbiamo messo anche nel programma tornare a gestire l'acqua secondo i criteri stabiliti dal referendum e quindi come servizio pubblico senza remunerazione di capitale ma che debba comunque fare degli investimenti sulla base delle tariffe verranno benvenute per i cittadini e questo nel corso del tempo però le tariffe sono sempre aumentate per via della gestione o comunque per gli investimenti sull'acquedotto e via discorrendo ma la ripubblicizzazione dell'acqua poi porterà effettivamente a un miglioramento del servizio con una riduzione di costi o l'insieme di queste cose è una chimera? Secondo me è una chimera ma una chimera nel senso che bisogna fare una valutazione seria cioè non fare della demagogia allora si deve stabilire se le tariffe devono coprire il servizio che viene erogato o il servizio quindi idrico integrato dove c'è dentro anche le fognature la depurazione oppure se le tariffe devono coprire anche gli investimenti o se gli investimenti vanno sulla fiscalità generale sono due cose uno deve aver ben chiaro quindi se uno dice attraverso le tariffe si pagano anche gli investimenti la modifica rispetto può esserci può essere qualche risparmio ma tenete conto già di rifare una parte delle reti e quindi gli investimenti previsti a livello nazionale nell'ordine 40 miliardi di euro se me sta parlando di cifre enormi per riportare la rete a in condizioni di non perdere per la strada il 30 e 40 in alcuni casi anche il 50 per cento dell'acqua dell'acqua e viene emmessa e quindi questo va a finire in bolletta oppure si dice no si paga la tariffa si paga l'acqua e viene erogato si stabilisce qual è il costo del metro cubo a aumentare per scoraggiare ovviamente gli alti consumi e quindi si pagano quelli servizi e poi gli investimenti vanno sulla fiscalità generale però ricordo la fiscalità generale si è per la saga con la sempre cittadina vorrei anche ricordare è vero si fa tanta polemica sulle tariffe se uno però va a guardare una famiglia di quattro persone quanto spende nell'arco di un anno per il servizio idrico integrato e le paragona a qualche paese europeo a noi vicino francia germania non parliamo della danimarca dell'olanda siamo sul cifre che sono quattro volte quelle paga una famiglia italiana ci si rende conto e ancora noi siamo diciamo in cifre abbastanza contenute rispetto a un bilancio familiare tenuto anche conto e chi è in difficoltà può soffrire di una serie di agevolazione di tipo economico e poi quando si parla di terbici idro per esempio sta prendendo avanti il fatto che i primi 50 litri sono gratuiti insomma insomma bisognerebbe che ci fosse diciamo va rivisto il meccanismo quando uno va verso una ricubblicizzazione va rivisto per bene il meccanismo per capire primo chi fa gli investimenti e chi li paga gli investimenti secondo per ricalibrare le tariffe e per togliere anche quel retropensiero non so quanto sia retro del fatto che se c'è un soggetto privato questo deve fare utili cioè normale noi quindi chiaramente benissimo quindi allora mi sembra piuttosto pragmatica anche come risposta piuttosto ben precisa adesso passiamo al nostro piccolo spazio che chiude questa nostra chiacchierata che chiude questo nostro servizio attraverso la telecamera ci sono i cittadini di Borgo San Lorenzo che in breve tempo li dovresti convincere a votare Borgo in Comune ma io chiedo il voto per Borgo in Comune e per me come candidato sindaco di questa lista perché ci proponiamo di attuare un nuovo rapporto nei cittadini ma questa volta vero cioè di massima trasparenza massima collaborazione massimo ascolto credo che quello è mancato in questi giorni di valutare insieme ai cittadini anche quelle che sono le opportunità di investimento dell'amministrazione deve fare a tutela dei settori fondamentali come la scuola la sanità il lavoro e poi soprattutto di iniziare una cura del paese del comune direi perché ci sono anche le frazioni non li mettiamo partendo dal decoro urbano per ricominciare anche alla cura del verde ripiantando gli alberi dove questi sono stati tagliati in ultimi anni senza che nessuno abbia fatto poi niente per sostituirli rendendo vivibile il paese anche attraverso mobilità dolce favorendo dove è consentito la mobilità in bicicletta favorendo il trasporto pubblico con gli investimenti e battendoci nei confronti di coloro gli investimenti che devono fare perché questi vengano attuati il prima possibile. Grazie per la visione!